Solidarietà alla scuola Luigi Capuana di Gela, una lotteria di beneficenza al fine di raccogliere fondi da destinare a Salvatore Spene, il giovane di 44 anni, sposato e padre di due bambini, che in Germania è sottoposto ad urgenti cure mediche dopo aver superato un intervento chirurgico a Milano. L'iniziativa ha avuto lo scopo di trasmettere agli alunni il valore immenso della solidarietà. Preside, oggi una giornata all'insegna dell'allegria, del divertimento ma soprattutto della solidarietà, un principio importante che va impartito ai bambini fin dai banchi di scuola. Assolutamente sì, anche perché noi attraverso i bambini arriviamo ai genitori, perché la nostra età è quella in cui i genitori sono molto interessati e partecipano molto attivamente alla vita scolastica dei propri figli. E quindi arriviamo ai genitori, ovviamente, a sensibilizzare i genitori. Noi abbiamo colto immediatamente la proposta dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore Sarinitro, in questo caso, di aiutare un nostro concittadino, che conoscete tutti, ormai si è fatto tanto parlare giustamente di tutto ciò, che è appunto Salvatore Spene. Quindi solidarietà a tutto campo, perché educa, questo educa, educa ad essere poi un domani un cittadino responsabile. Ieri a scuola era presente anche l'assessore comunale Francesco Sarinitro. Sicuramente serve raccogliere fondi per aiutare il nostro concittadino, ma dal punto di vista educativo ha un valore enorme, perché i bambini capiscono che se ci sono delle difficoltà bisogna stringersi insieme e cercare di risolverli. Poi in una situazione come quella di oggi, dove ogni categoria manifesta il proprio disagio, che sta diventando sempre più pesante, quella di oggi, questa così grande manifestazione, vedere così tanti bambini insieme, con lo stesso obiettivo, quello di aiutare un'altra persona che è in difficoltà, questo veramente ha un valore enorme, ma un valore enorme anche in prospettiva, perché vuol dire che se noi risolviamo i problemi materiali, che sicuramente dobbiamo risolvere, che sono di tipo economico, l'humus di base, cioè quello che noi abbiamo dentro, di fondo, è sicuramente positivo e ci fa sperare per il futuro.